Un'altra tegola si abbatte sul comune di Taranto. 13 milioni di euro da versare al fisco come ulteriore pesante eredità dei danni provocati dal dissesto. L'Agenzia delle Entrate ha contestato a Palazzo di Città il mancato pagamento dell'IRPEF a dipendenti comunali e professionisti esterni nel 2005 e 2006. Al debito di 5 milioni e 612 mila euro vanno aggiunti interessi e diritti di notifica che fanno lievitare ulteriormente la cifra. Al comune è stato inoltre contestato il mancato versamento dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive. L'intera vicenda è stata sollevata dall'assessore al bilancio Dante Capriulo. Intanto chiariamo che si tratta di tasse non pagate del 2005 e parte del 2006. Ovviamente le mosse del comune sono quelle di verificare l'esattezza di questo importo. Dalle prime verifiche c'è qualche incongruenza rispetto al dato che ci ha comunicato l'Agenzia delle Entrate. Quindi attraverso i nostri tecnici faremo gli approfondimenti. Poi quello che sarà dovuto, così come abbiamo fatto per la larga parte dei debiti ereditati del passato, li pagheremo, diciamo, si aggiungono ai tanti debiti che abbiamo ereditato. Li pagheremo con gli strumenti che la legge ci mette a nostra disposizione. In questo caso, essendo antecedenti il 31 dicembre del 2006, la competenza è della OSL. Quindi passeremo questo debito alla OSL che lo pagherà alla metà. Però è bene che i cittadini sappiano che anche quella metà dovremo pagarlo col bilancio comunale. Quindi sono altre risorse che purtroppo dovremo pagare per fronteggiare debiti del passato.